ecco qui siamo arrivati al casino che non ci interessa siamo arrivati nella riserva dei cavalli allo strato brado di rassa l'ipis la giornata è meravigliosa si è la giornata perché l'altra volta ci si è possibile è bello 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 bene ragazzi adesso siamo usciti dall'ipodromo mentre il spettacolo è finito adesso andiamo a fare un giro dei maneggi qui vedere un po' come si evolve il tutto è stata a Sant'Antonio da Padova protegge gli animali anche delle malattie si siamo nella parte più antica del maneggio questa struttura di mispaglia c'era già prima del maneggio vero e proprio anzi adesso vi ho fatto vedere la stalla con i cavalli nei boxe, i cavalli maschi, stalloni e adesso andiamo a vedere l'ultimo maneggio ma il giro purtroppo è quasi finito perché si è vicino alle 17 e andiamo a vedere appunto questo maneggio e poi poi penso torneremo in corriera è un sport il video è finito perché appunto abbiamo visto anche l'ultima staglia adesso ripartiamo perché la corriera quattro ore di viaggio bene o male ci hanno un po' fatta di partire e niente anche questa visita è stata tanta roba diciamo e niente ci vediamo alla prossima prossima gita o escursione a